Ho installato su Minecraft la mod che rende tutti i mob giganteschi, compresi i creeper, compresi le esplosioni dei creeper. Se durante il video sei non riuscito a strapparti una risata, ti ricordo di lasciare il follow e anche un bel like, che fa sempre piacere. Benvenuti in Minecraft ma tutti i mob sono giganti. Ciao, io sono Pogodoggo e questo è Minecraft ma con tutti i mob giganteschi, compreso l'Ender Dragon e compresi gli Enderman, e i creeper, e gli zombie, e gli scheletri. Cioè, insomma, proprio tutti ci sono, eh? L'obiettivo di oggi infatti è proprio andare nell'end e andare a vedere quanto è diventato grosso l'Ender Dragon e quanto sono diventati grandi gli Enderman. Riusciremo ad arrivarci in survival? Penso proprio di no. Riusciremo ad arrivarci con i cheat? Penso proprio di sì. Moriremo brutalmente? Penso proprio di sì. Allora, ho già visto dei problemi, ho già visto dei problemi, questo è un problema. Anche quello lì è un problema, non di poco conto, perché se quella roba mi attacca, tecnicamente ci sono i danni aumentati, le esplosioni dei creeper aumentati, le frecce giganti degli scheletri, è tutto un casino. Signor Maiale, cosa sta facendo lì nell'albero? Ah, prima di tutto direi di prendere un po' di legna. Ok, crafting table fatta, andiamo a piazzarla, facciamoci gli utensili primari per la sopravvivenza, ossia un piccone, prendi il piccone, una spada e facciamo anche un'ascia, non mi bastano gli sticchetti, perfetto. Riprendiamoci la crafting table. Ah, ah, così! Subito! Oddio, attacco on titan, c'è un problema, ci sono dei villager giganteschi, proprio tutti, tutti, nessuno escluso. Aia, signor lupo stia calmo, mi scusi sua gigantosità, posso parlare con lei? No, 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 non disturbiamolo. Ma quanto sei grosso! Cioè, io come faccio a prendere del ferro uccidendolo? Dovrei fare un pilastro infinito. Ho paura di te, ho tanta paura di te. Ok, continui a compenetrarsi tra gli alberi, io intanto faccio un giro. Prendiamoci un letto, che non si sa mai. Finché è mattina, io non mi preoccupo più di tanto. Il problema è la notte. La notte, come sappiamo, appaiono zombie, creeper, scheletri, funghi, barbagianni, tostapane, banane, tostabanane, un salmone, è uno squid gigante. Questo salmone è bellissimo, questo se gli metto una sella probabilmente riesco anche a cavalcarlo. Salve, signor salmone... Io la uccido. Ma quanto è grande il drop! Ma enorme! Ma se lo droppo? È piccolo. Magia! Udini! Allora, signora mucca, io le do una spadata, eh. Però, nel senso, non mi schiacci, non mi faccia niente. Una piccola spadata, prendo giusto due pezzi di carne. Piano, 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 non si muova che distrugge tutto. Troppo grossi! Facciamoci dei pedalini, è l'unica cosa che posso craftare al momento. Eeeh, stiamo calmi! Allora, io mi avventuro nella caverna perché vorrei un attimo prendere del carbone o del ferro. Non c'è nulla. Va benissimo. Torno indietro. Tra l'altro piove anche, che è una delle cose che odio di più in questo videogioco. Prendiamo un po' di pietra, almeno con la pietra riusciamo a fare degli utensili leggermente migliori. Possiamo andare a scavare. Troviamo un po' di ferro, facciamo un secchio, prendiamo l'acqua e se abbiamo fortuna che troviamo una pozza di lava, possiamo fare anche un portale del nether senza neanche prendere l'ossidiana. Il che sarebbe una cosa molto, molto, molto vantaggiosa. Ok, io mi farei una fornace, così cuociamo sia il pesce che la carne, anzi, magari ne facciamo due. Sì, ma con cosa le cuocio? Con la buona volontà? Vabbè, con gli stick. Mi dispiace, signori stick, ma vi userò per cuocere il pesce, anche l'ascia, buttiamoci anche l'ascia in mezzo. Vado a prendere un po' di legno nel frattempo perché ho finito gli stick. Per fortuna ho gli alberi a portata di mano, io devo proteggermi a tutti i costi da tutte le bestie che ci sono qui intorno e che spawneranno qui intorno. I ragni giganti. Avevo scordato i ragni giganti. Quello sarà un leggero, leggero problemino, anche perché mi fanno schifo i ragni e quindi vederli giganti, insomma. Ok, lì in fondo c'è scritto non uscire dalla caverna perché sennò quella roba si gira e mi tira una freccia che me la ricordo fino a domani. E sento rumori di ragni, ne ho appena finito di parlare. Per favore, facciamo le persone serie. No, 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 sono intorno a me, che schifo, me li sento addosso. Per favore. Quello scheletro mi sembra veramente minaccioso. Non abbiamo torce. Let's go! Oddio santo, benedetto! No, 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 siamo circondati, siamo, siamo circondati. Oddio, che schifo, che schifo, che schifo. Che schifo, sono dappertutto. Sono dappertutto, sono dappertutto, io vado via. No, 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 c'è anche un creep, c'è, oddio santo. Oh, no, 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 non è fattibile, non è fattibile. Questa roba non è fattibile. Per favore, signor coniglio mannaro, mi aiuti, c'è un orso polare anche. Qualcos'altro da aggiungere alla festa? Niente più? Voglio sterminare dei maiali. Visto che ho già dei letti, signora pecora non la ucciderò. Ma signor maiale, mi dispiace, ma lei va sterminato. Lei sta brucando l'erba o sta brucando me? Mi scusi, cioè guarda sono così grossi che si confondono nella natura con gli alberi È terrificante, compenetrano anche gli alberi Io vado via assolutamente da qui subito Abbiamo bisogno di ferro Qui nelle vicinanze potrebbe anche esserci una pozza di lava Signora pozza di lava, può spawnare? Ok, acqua ce ne abbiamo quanta ne vogliamo Anche perché siamo nella neve, quindi se non ci fosse l'acqua sarebbe un problema Cos'è quella roba? Si muove, si muove, è uno slime? È un mob che è sottoterra buggato? Ci dobbiamo avvicinare per forza, sì È uno zombie, è uno zombie gigante compenetrato nel terreno Siamo calmi, siamo calmi e nessuno si farà del male Tranne lei 28 torce, degli stivaletti, una spada di pietre Siamo pronti a battere l'ender dragon Perfetto, tre di ferro, altri tre di ferro E abbiamo già due secchi Uno per la lava e uno per l'acqua Siamo armati fino ai denti, non ho paura di nessuno Dei ragni ancora un pochino Però non ho più paura di nessuno Adesso ci manca da trovare la lava e l'acqua Eccola qua, una distesa infinita di acqua Ghiacciata, con uno squid Buggato in mezzo Ma è pur sempre acqua Questo coniglio è la cosa più cattiva del mondo Vuole uccidermi No, 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 no Stia indietro Indietro, no, 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 no Santo iddio Ho capito che le esplosioni erano leggermente più grandi Leggermente non equivale a un cratere È caduto un meteorite qui Non è esploso un creeper Toc toc Salve Prendo degli stivaletti Ce li ho già Grazie, ma ce li ho già Mi serve della lava Oh mio Dio Ma quanto siete grossi Per favore Come fate ad entrarci in delle case così piccole? Così chiedo Chiedo per un amico, eh Signor Golem Non sto razziando il villaggio Eh, sto solo entrando nelle case Per riscaldarmi dal gelo Eh Vabbè Esco fuori, va Eh Non so cosa sia successo qui Io giuro che non l'ho toccato Non l'ho toccato io Questo coniglio È stato il gatto L'avete visto tutti È stato il gatto E c'è una pecora gigante In un recinto Piccolissimo Io vi libero Pecore giganti Andate a diffondere Il vostro gigantismo Non so Io vabbè Vi libero Fate quello che volete Io non ho fatto niente Addio Ok Sono riuscito a trovarla Grazie al cielo Devo solo ricordarmi adesso Come si fa il portale del nether Senza ossidiana Allora Se non erro era Ho sbagliato Un blocco qua E poi ci devo mettere l'acqua Ok E poi devo rompere questo Perfetto Non è perfetto In realtà È un problema Che credo di aver sbagliato qualcosa Ehm Proviamoci di qua Devo mettere la pietra qui Non ho più l'acqua Aiuto Perché è così complicato Finire questo gioco E poi quante pecore ci sono Qui intorno Si moltiplicano a vista d'occhio Perfetto Grazie Poi Poi Era Così E così Ne sono sicuro Era così Poi dovevo prendere la lava Però aspetta Dovevo anche fare qui sotto Spaccare i blocchi E metterla anche qua sotto Ok Non so Quanto possa funzionare questa cosa L'ho vista una volta Ma confido nelle mie capacità Ok Dovremmo avere il portale del nether completo Adesso ci manca L'accendino Quanto può mai essere lontana della gravel Quella è della gravel Oh è solo pietra Dimmi che sei della gravel Ti prego È della gravel Mamma mia Che culo Dai Su Perfetto Grazie mille Ritorno al portale E lo vado ad accendere Se funziona Sono fiero di me stesso Va benissimo così Fatto l'accendino È il momento della verità Perfetto Grazie Bellissimo Andiamo Allora Di base nel nether Tecnicamente dovrei minare subito Le pepite d'oro Una volta fatte le pepite d'oro Ho paurissima di quello scheletro Dobbiamo fare gli stivaletti d'oro In modo che i pigli Riescano a commerciare con noi Mamma mia ragazzi Però sono degli alberi Sono anche più grandi degli alberi No 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 Senti Pumba Calmo 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 eh No 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 Vengo in pace Mannaggia 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 In pace No 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 calmi 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 Devo prendere delle pepite d'oro Assolutamente prima di istantaneo Allora ne ho 64 Più 38 Quindi non me ne dà una sola a blocco Me ne dà molte di più Perfetto Adesso posso commerciare con i piglin Salve 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 Ho un lingotto duro per lei Se vuole lo può prendere Proprio qui Mi droppi un ender pearl Così al primo lingotto Lo sta analizzando Perfetto Un po' grosso Cosa mi ha dato Ma mi scusi Mi ha scammato Mi ha dato No non mi serve l'ossidiana Cos'è quella roba Ok questi non me li ricordavo Mi ha dato nove stringhe Per fare l'arco Buonissima così Arco fatto Perfetto Le frecce ce le abbiamo Ecco c'è un altro problema In questo momento Io come torno a casa Io non mi ricordo Dov'è il portale Questo è un problemone Io spero che Il cinghiale enorme Non mi attacchi a vista No 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 Mi fa del male Mi fa del male Stavo scherzo Era uno scherzo Era tutto un prank Corro via Corro via Era lui quello degli scambi Arrivo tesoro Arrivo da te No 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 Sono un imbecille Sono un imbecille Sono un imbecille Sono un imbecille Un imbecille E cosa sono io Un imbecille Niente sono spawnato di nuovo Nel villaggio Dei puffi giganti però Visto che sono morto Come un imbecille Avevo un sacco voglia Di vedere come era grosso L'ender dragon Con questa mod Mi sono armato Di spada Arco Cibo Cobblestone Letti E delle frecce E un'armatura di ferro Per rimanere umili Manca solo il portale Dell'end Allora Ah no Che sbadato E' proprio qui Ok Sono in un cubo di formaggio Non ho un piccone Ho un piccone Stavo scherzando Tutto bene Ok Ci sono un paio di Orca merda Dov'è? Oh mio dio E' gigantesco E' grosso quanto L'intero mondo Di minecraft Prendo l'arco Io non voglio Avere a che fare con voi Vado a crearmi Delle capannelle In modo Che gli enderman Non mi possano colpire Da qua No Questo è totalmente Sbagliato Oh mio dio E' gigantesco Mirare Sparare Sono fortissimo Non colpire l'enderman Che casino Al prossimo video Al prossimo video